Ma che hai? Stai bene? Da dove viene tutto quel sangue? Hai sbagliato, Cass. Che vuoi dire? Stan Rubino ha preso Thomas. Rubino ha preso Thomas? Rubino il manager dell'Axus? Sì, proprio lui. Hai fatto un casino. Ma che cazzo... Non abbiamo derubato Rubino. Era roba di Novak. Ci hai infilato nella merda di Novak. Io non ne avevo idee. Perché non ce l'avevi? Mi avevano detto solo che era un colpo facile. Non era facile per niente. No, Thomas. Beh, dobbiamo... Cazzo lo ammazzeranno. Lo so che faranno. Mi serve quella borsa. Non ti avrei fatto una stronzata simile a Poppa. Allora perché l'hai fatto? Fratello, io non lo sapevo. Voglio bene a Thomas come se fosse figlio mio. L'hai visto una volta in posto. Senti, sei incazzato e lo capisco. Metto tutto a posto.